Il frutto speciale, pieno di proprietà benefiche, fa dimagrire, ti fa volare e diventi pure Superman. Beh ho esagerato mi sa con quest'ultima, ma io lo dico sempre che non esistono alimenti speciali o superfoods, come li definiscono in inglese. Sinceramente è un frutto che ha alcune proprietà intrinseche, che andremo a vedere magari a breve, e che ha anche una serie di vitamine e minerali utilissimi nella nostra alimentazione, ma non credere che potrai volare mangiandolo o magari pilotare Goldrake. Te lo confermo perché io ci ho provato, ma niente, ancora non volo nel piloto Goldrake. Ovviamente senza distruggere il tuo preconcetto sulla utilità di mangiare ananas, perché mangiare frutta è sempre un'idea geniale. Prima di cominciare, se non sei parte di questo progetto salutista, puoi sempre iniziare a farne parte in qualsiasi momento, iscrivendoti a questo canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. È un qualcosa di gratuito e magari puoi sempre trovare degli spunti nuovi di discussione o di riflessione sulla salute e sulla nutrizione. Non posso ne ricordare la famosissima pubblicità sull'ananas dell'uomo che diceva sì. Non faccio pubblicità gratuita, ma ci siamo capiti. L'uomo ha detto sì. L'ananas mi ha sempre affascinato con quella forma strana, la buccia spinosa e arduvida, e quel sapore dolciastro misto ad acidulo che è molto caratteristico. Una cosa da dire prima di tutto ciò è che alcune sostanze contenute nell'ananas possono effettivamente trovare alcuni impieghi medici, e questo è comprovato da molti studi che tra l'altro puoi trovare come sempre qui sotto nella descrizione del video. Ma non pensare che mangiare l'ananas ti renderà immortale, anche perché le concentrazioni in un frutto non potranno mai essere quelle che poi si andranno a utilizzare per eventuali scopi medici. Un esempio molto pratico è la bromelina che è contenuta appunto nell'ananas e che è comprovata essere un ottimo aiuto per le terapie antitumorali del cancro al seno, come anche un suo utilizzo nella riduzione degli stati infiammatori è anche una cosa comprovata in ambito scientifico. Un aspetto molto interessante e curioso allo stesso tempo è che la bromelina viene anche utilizzata come un additivo industriale per ammobilire i fasci muscolari delle carni, soprattutto quelle in scatolate. Questo aiuta a rendere la carne più tenera per il consumo umano. È una cosa che puoi fare tranquillamente a casa anche tu, mettendo a mollo la carne nel succo di ananas a marinare, magari per un paio d'ore la renderà un po' più tenera per quando la andai a preparare per cucinare. La composizione è tipica della frutta, contiene tantissima acqua ovviamente, e per cui è un ottimo frutto da consumare magari o soprattutto nel periodo estivo. Se sei un calabrotto come me ad esempio, se vivi o se vivi in una città caldissima, è un ottimo metodo e gustoso per introdurre dei liquidi. Prima di continuare ti volevo come sempre ricordare che mi trovi anche su tutti i social networks. Mi trovi presente su Facebook, su Instagram e su Twitter, e se questi contenuti ti piacciono e sono di duro credimento, per favore condividili per farmi crescere e portare questo messaggio salutista a più persone possibili. Della composizione totale del nostro frutto, questo frutto è composto per più dell'85% di acqua. Il 13% sono carboidrati, dei quali 9 grammi sono zuccheri, e l'1.5% circa è fibra alimentare. Proteine per circa uno 0,54% e il contenuto di grassi invece trascurabile. È un frutto per cui che io ritengo molto interessante e soprattutto idratante. Ma cosa succede se andiamo a parlare invece di micronutrienti? A parte una vitamina e un minerale, purtroppo il resto dei nutrienti, micronutrienti, pur andando ad aiutare magari a incrementare la quota necessaria giornaliera, sono diciamo in quantità minime, per cui al di sotto del 10%. Tra le vitamine spiccono quella C, la vitamina C, questa è presente addirittura per il 58% della quantità giornaliera. Ovviamente per 100 grammi di parte edibile. Per il resto, a parte la B6 con 9% e la B1 con 7%, il resto sono tutte in quantità minime. Per quanto riguarda invece i sali minerali, come dicevo prima abbiamo solo un elemento che è il manganese, che è presente in maniera molto rilevante con circa il 44% della RDA. Il resto, tutto quanto il resto è veramente molto ma molto trascurabile. A differenza di quanto ho sempre pensato, a mia ignoranza purtroppo devo dire, il maggior produttore mondiale è la Costa Rica. Non so perché, ma io ho sempre pensato e creduto che invece fosse in Brasile, vabbè. In Costa Rica ha una produzione mondiale di circa 3.1 milioni di tonnellate annue. Sarà che io vedevo l'uomo di quel monte lì che diceva sì e pensavo fosse un brasiliano. Ma mi sa che ero troppo piccolo. Come utilizzarla in cucina? A parte la pizza Hawaii con ananas e prosciutto, che non ha senso, ci sono molti modi più sensati di utilizzare questo favoloso frutto. Nelle cucini creoli è particolarmente utilizzata così come anche nei piatti agrodolci, soprattutto in quelli cinesi, thailandesi o delle Filippine. Anche la famosa pignacolada cocktail, famosissima a base di ananas e di crema di cocco. O se viene fermentata, anche una famosissima bevanda messicana, il tapacé. Come hai ben capito, visto che non l'ho mai citato, e qui te lo voglio confermare, non esistono prove scientifiche che l'ananas faccia dimagrire, lei o i suoi estratti. Non c'è prova scientifica. L'unica cosa che fanno dimagrire le ananas è il tuo portafoglio se vai a spendere i soldi per comprare integratori a base di ananas. Cosa però da tenere in considerazione è che è un frutto poco calorico. Infatti, pur contenendo tanti zuccheri, le ananas sono composte principalmente da acqua e da fibra, per cui possono far parte delle diete dimagranti perché tra acqua e fibra tendono ad avere un ottimo potere saziante. Per questo motivo è opportuno mangiare il frutto fresco invece che quello in scatola perché a quello invece ci viene aggiunto un succo a base zuccherina come conservante che appunto fa aumentare l'apporto calorico. Un'altra cosa interessante è il suo utilizzo in campo medico. Infatti, è stato scoperto che è una valida alternativa gustosa e soprattutto economica ai prodotti sintetici dei liquidi di contrasto nel campo delle risonanze magnetiche, in particolare della colongiografia, che è un esame radiologico per le vie biliari. Per cui, come dicevo all'inizio, alcune cose sono vere mentre altre sono solo fantasie dei venditori di integratori. Un ottimo spuntino che ti posso andare a consigliare da fare con l'ananas è quello di mangiarlo assieme a delle noci miste che è uno spuntino utilizzato da Jason Statman, attore e anche un grande praticante di atti marziali, l'attore che ha fatto The Transporter. Lui fa 100 grammi di ananas e 15 grammi di noci miste. Tanta fibra, tanta acqua, carboidrati e grassi buoni. È solo un'idea, ma è un'idea, secondo me, gustosa e valida in quanto tende a creare un contrasto fra il dolce acidulo dell'ananas e il gusto particolare che tutte le noci miste possono andare ad avere. Bene, mandami un'email a info-helpmefood.com oppure lasciami un commento qui sotto se vuoi chiaramente ho altre domande su questo o su altri argomenti. Questi contenuti, come sempre, li trovi anche sotto solo forma di audio podcast su tutte le piattaforme che trovi nella descrizione qui sotto. Visita anche il mio sito internet che come sempre è www.helpmefood.com Bene, anche per oggi ti lascio andare per cui mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti che è Eat Well, Live Well and Smile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!